Benvenuti ad Ascoli Satriano, la città dei grifoni, chiamata così grazie ai ritrovamenti archeologici risalenti al IV secolo a.C. Qui su questi campi si fonde tradizione e innovazione, valori fondamentali per Nunams che ha deciso di investire nel pomodoro d'industria a frutto allungato. Forse non tutti sanno che questa tipologia di pomodoro viene coltivata soltanto in alcune regioni del sud Italia. Dask, la nuova varietà di pomodoro d'industria Nunams, nasce dalla selezione effettuata in queste aree e ne celebra l'importanza anche tramite il suo nome. Tra i pilastri di Nunams c'è l'obiettivo di creare valore all'interno delle filiere agroalimentari, selezionando varietà che siano produttive, idonee alla trasformazione, sane e buone. Infatti Dask risponde a tutte queste caratteristiche fornendo quintali ai produttori, pelabilità e consistenza per le fabbriche, il tutto in una pianta naturalmente sana. E ora andiamo a vedere insieme le caratteristiche della pianta. La pianta ha un andamento prostrato molto ordinato, la vegetazione è coprente, il ciclo di maturazione è medio precoce e abbiamo resistenze a tomato spot due virus, pseudomonas, verticillium e nematodi. Il frutto è di pezzatura media di 80-85 grammi, si presenta di un rosso intenso e ha un'attaccatura peduncolare particolarmente contenuta, caratteristica che può essere interessante per l'industriale e la trasformazione. È consistente, duro, una buona spessore di polpa e risulta colorato benissimo fin dentro. Siamo su un campo trapiantato a metà di aprile e oggi è 30 luglio, siamo in prossimità della raccolta. La prima cosa che arriva agli occhi è la differenza di colore di vegetazione, dove alla mia sinistra abbiamo il Dusk più coperto e più sano e a destra abbiamo la varietà della concorrenza di riferimento. Adesso ascoltiamo il parere di Gerardo Campanella della cooperativa Corsud. La nostra azienda si chiama cooperativa Corsud. Da 35 anni opera sul mercato, inizialmente solo quello cerealicolo e da circa 20 anni anche quello orticolo. In particolar modo pomodoro da industria è broccoletto e cavolfiore prodotto solo dai soci della cooperativa. Perché Dusk? Perché noi siamo un'azienda molto aperta alle innovazioni, per cui quando ci viene proposto di sperimentare qualcosa di nuovo noi siamo assolutamente disponibili. Questo è il secondo anno che noi abbiamo il Dusk in campo, quindi che lo raccogliamo e le caratteristiche che rileviamo più facilmente anche ad occhio rispetto alle altre varietà di assoluto rispetto sono un apparato fogliare più coprente e diciamo le produzioni che comunque pare che tenga il passo con le altre varietà. Devo dire in ultimo ad onor del vero che nella scorsa stagione di raccolta del pomodoro, ossia 2019, il carico di Dusk nelle fabbriche in cui è stato portato è stato accettato ed apprezzato se non altro alle stesse condizioni delle altre varietà in concorrenza. Sono Daniele Dascoli, account manager pomodoro d'industria per NUNEMS Italy e nel ringraziarvi per aver visto questo video vi invito a visitare la nostra pagina web o a contattarmi personalmente. Grazie ancora! BASF. We create chemistry.